Ciao a tutti Goof e benvenuti in questo nuovo video Mi vedete un po' a uno straccio perché mi sono appena svegliata Cioè, tipo mezz'oretta fa E ragazzi, non sono ancora sveglione del tutto Ma va bene, questo vlog Diciamo che sarà composto da due giornate Una è oggi, ovvero l'1 settembre E una sarà il 7 Il settembre ovviamente E oggi andiamo al festival di Venezia Come andremo anche al 7 Adesso ci andiamo a preparare E poi dopo ci sentiamo dopo Siamo appena scesi dal pullman Adesso stiamo andando a prendere il traghetto che ci porterà Che ci porterà a Lido E allora, mentre il pullman faceva un freddo Ragazzi vi giuro Polo Nord Siamo usciti Un caldo Cioè, è stato bellissimo Stiamo nel traghetto Abbiamo rispetto di affondare Morire Insomma, sì Io Cioè, l'acqua è tipo vicinissima Io penso di affondare Da un momento all'altro Tutto ciò non è promettente In autobus Non ci posso dare Siamo arrivati come avete visto dalle clip prima Qui fa un caldo Cioè, siamo passati prima Dal diluvio universale E qua è ora il caldo Cioè, prima eravamo al Polo Nord Adesso Siamo in Africa Il giro nel mondo In 24 Si può dire che è rosso Eccoci Ci siamo vestiti Siamo dentro l'hotel Stiamo aspettando Insomma La proiezione Abbiamo fatto un po' di foto Che vedete sul mio Instagram Che vi ricordo Che mi chiamo così E niente Adesso aspettiamo E poi dopo vi dico Siamo pronti? Pronti? Ok Valentina Tu hai già lavorato in cinema? Si Ho avuto qualche esperienza Cineautografica Qualc'anno fa Una piccola parte Ma molto divertente A me può andare Se abbiamo qualcun altro Adesso Valentina Puoi andare Grazie Ciao A caso Ho incontrato lei E un mio Dio Ciao a tutti Ciao Ciao Allora Tutto bene Qua Tutto quanto non tratto Si è fatto freddo E perciò Sono qua nella fetta Non so come potete sentire Ma va bene Siamo in autobus Che ci porterà A prendere Tragritto E l'altra gritta Ci porterà A prendere L'autobus Che l'autobus Che porterà A casa E insomma Ci mettiamo dopo Ragazzi Noi ci salutiamo qui Il primo giorno Di festival di Venezia Ovvero del festival di Venezia Volgato da me È finito E noi ci vediamo Direttamente il 7 Eccoci qua È il 7 Magicalmente Sono passati 6 giorni Siamo di nuovo in autobus Qua piove di nuovo Di meno però Io non lo so Che la pioggia Che la pioggia sia con voi Comunque mi sono fatti i boccoli Mi sono truccata Mi sono vestita Poi vi farò vedere il vestito Se magari ci arriviamo Venezia E niente Ci vediamo dopo In questo momento In questo momento Siamo sul water taxi E per entrare C'è mia madre Che tipo Si è aggrappata Al tizio che guida Ciao 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 Grazie a tutti Non era in programma la proiezione del film completo Oh mio dio c'è un setto Che ansia Non era in programma però Cioè nel senso è stata una cosa molto ristretta Adesso lo andiamo a vedere Poi vi dico Sono emozionatissima io ancora ma vabbè È il giorno dopo ma dettagli Il video si conclude qui Come sempre se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare like E iscrivetevi Io vi lancio un bacione E noi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti